Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, formazione affitti brevi. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere una giovane realtà dinamica e di successo, in grado in pochi anni di sviluppare un nuovo mercato nell'ambito della formazione per il business degli affitti brevi, per la qualità del servizio e per la soddisfazione dei fruitori che ne fanno un esempio vincente di New Business. Il premio va a B&B Academy. Io ho il piacere di avere qui con me Ludovico Cianchetta Vasquez, founder di B&B Academy, che invito a raggiungermi sul nostro palco. Ingresso ufficiale, eccolo qui, complimenti. Grazie mille. Il premio subito nelle tue mani, ti do del tu perché adesso racconteremo in breve la tua storia perché è fantastica, complimenti. Certo, grazie mille, appoggio qui. Assolutamente, accomodati. Prima ti chiedo che cosa significa per te e per voi questo riconoscimento. Beh, sicuramente diciamo l'anello di giunzione di tutto il lavoro che abbiamo fatto ultimamente con i nostri oltre mille studenti ormai e rappresenta diciamo la certezza che stiamo facendo un lavoro egregio. Giustamente i clienti, come veniva detto, sono molto soddisfatti. I risultati arrivano, sono consolidati e quindi il premio, diciamo, è la prova definitiva del nostro buon operato. Ecco, non si fa mai, però in questo caso i nostri telespettatori capiranno che lo faccio per un motivo. Quanti anni hai? 25. 25. Allora, questa idea, mi piacerebbe in breve raccontare come ti è venuta l'idea e come anche, visto che i nostri le fonti of work servono un po' come esempi da seguire, no? Certo. Di eccellenze del nostro territorio. Quali sono state le chiavi del successo in un tempo relativamente breve, mi viene da dire? Certo. Allora, io ho sempre avuto uno spirito imprenditoriale. La mia prima startup l'ho fondata a 18 anni, quindi diciamo che la vena di crescere appunto nel settore imprenditoriale, di creare una mia realtà, l'ho sempre avuta. Infatti ho avuto diverse startup che poi ho venduto. e ho iniziato personalmente nel settore degli affitti brevi acquisendo un immobile, poi due, tre, via discorrendo. Sin da subito nel settore appunto immobiliare ho avuto degli ottimi successi, tant'è che le persone attorno a me si sono chieste, ma anch'io voglio iniziare questo business, come fare? Quindi per forza di cose, per scalare anche il poter insegnare questo business a più persone, ho detto creiamo un'accademia che possa insegnare a tutti, senza vincoli di tempo e di orari, questo fantastico business degli affitti brevi. Quindi insomma, competenza, formazione, soddisfazione, perché poi abbiamo sentito tutte queste parole anche nella motivazione, che è arrivato in breve tempo da parte di chi vi ha conosciuti. Certo, assolutamente. Come guardare al futuro, anche perché poi insomma questi riconoscimenti si inseriscono in un contesto complicato per il nostro paese, ma non solo per il nostro paese, per il mondo, quindi ancora di più le strategie sono necessarie, strategie che puntano a obiettivi sempre più ampi. Da dove ripartire, o meglio, da dove proseguire adesso? Abbiamo visto una tendenza ovviamente nei mesi più duri di lockdown, in discesa, quindi meno prenotazioni, per poi avere un rimbalzo molto alto nei periodi estivi, quindi segno che comunque un minimo l'economia sia ripresa. Noi abbiamo tempestivamente aggiornato il corso, perché prima che formatori siamo proprio imprenditori, io e il mio team nel settore immobiliare, quindi siamo i primi a dover creare delle strategie per migliorare quella che era la situazione dei nostri appartamenti, dopodiché queste strategie le abbiamo appunto inserite all'interno di B&B Academy per i nostri studenti e abbiamo visto, devo dire, un notevole aumento delle prenotazioni rispetto al periodo, potendo comunque diventare profittevoli anche in questo determinato periodo storico e adesso siamo a novembre, nonostante tutto seguendo quelle che sono le tecniche i nostri studenti e noi stessi riusciamo a riempire gli appartamenti. Abbiamo, diciamo, modificato quella che è la strategia, attuando una strategia un po' più a lungo termine, quindi se prima magari le prenotazioni arrivavano per uno, due, tre giorni, adesso accogliamo tante persone che magari vengono dall'estero a fare smart working, piuttosto che persone che per necessità, giornalisti e quant'altro, e quindi nonostante tutto sia noi che i nostri studenti, oltre mille, riusciamo in maniera profittevole ad attuare questo business. Ecco, che poi proprio a causa della rimodulazione di tutti i lavori, tu hai citato lo smart working, la casa è diventata anche un luogo dove si fanno più cose rispetto a prima, banalmente si chiudeva la mattina e poi si stava fuori tutto il giorno, oggi non è più così, quindi magari puntare anche lì a quello che è il discorso che ruota intorno alla qualità. Assolutamente, infatti noi uno dei pilastri del nostro corso è proprio garantire un servizio eccellente a quelli che poi saranno i fruitori degli appartamenti, che non necessariamente significa investire tanto denaro, ma creare un'esperienza, seppur semplice, ma di qualità, garantendo ovviamente standard minimi di pulizia e di ospitalità, che ovviamente insegniamo all'interno di B&B Academy. Direi di sì, allora questo io lo riconsegno a te, grazie mille. Questa volta ufficialmente, non lo toglie più nessuno, complimenti a B&B Academy e complimenti per l'idea di partenza, poi sviluppata da tutto il team, quindi naturalmente il premio va a tutti, grazie però a Ludovico Cianchetta Vaskets, founder, e a tanti successi futuri, insomma, questo deve essere un po' di buono auspicio indipendentemente dal fatto che sia ricevuto per quello che è già stato fatto. Certo, assolutamente. Complimenti e grazie. Grazie mille. Grazie.